buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti quanti vedete un altro scorcio del nostro laboratorio di bricomaghi siamo di nuovo in diretta e lo saremo ogni giorno oggi siamo in diretta di pomeriggio ma saremo in diretta anche al mattino ieri siamo stati in diretta insomma ci vedete in diretta perché stiamo partecipando appunto a una serie di iniziative che comunque hanno messo in piedi altri che si occupano ovviamente di manualità ci occupiamo come sapete di manualità didattica e quindi stiamo cercando di nel nostro piccolo ovviamente di tenervi un po di soprattutto in maniera più che di tenere compagnia di parlare di cose belle in questo momento così difficile e soprattutto di quello che è il nostro argomento principale cioè di manualità didattica come sapete noi ci occupiamo di laboratori di didattica creativa di in qualche modo utilizzare quelle che sono le tecniche manuali in particolare il craft comunque quelle che hanno a che fare con la lana in senso didattico quindi con valenza didattica di conseguenza il nostro target sono gli educatori sono gli insegnanti sono i genitori sono in qualche modo gli zii nonni insomma chiunque abbia desiderio di utilizzare le tecniche manuali o di realizzare anche con le sue mani ovviamente dei giochi didattici didatticamente validi quindi ovviamente a carattere alfabetico carattere matematico io adesso vi ho portato questo pomeriggio alcune cose ma andiamo per ordine io ho portato innanzitutto il lucet perché ve ne avevo già appunto parlato qui intanto vedete uno dei nostri ultimi uno dei giochi didattici che abbiamo realizzato trovate come sempre il tutorial sul nostro blog bricomaghi.blogspot.it è un gioco didattico per giocare con le sillabe e il passaggio delle stagioni come vedete qui abbiamo il cubo sul lato primavera però c'è anche il cubo ovviamente essendo un cubo ci sono appunto delle facce e ogni faccia corrisponde appunto a una stagione se vi ho incuriosito vi invito appunto ad andare sul nostro blog per poterlo realizzare semplicemente anche voi perché parte da una scatola di cartone vi dicevo vi ho portato il lucet che è questo strumento qua per realizzare le trecce in lana e ho portato anche della lana bella grossa come potete vedere perché poi già che ci siamo ovviamente vi faccio vedere anche qualche punto non di uncinetto con questa lana grossa ma dei ferri quindi se a qualcuno appunto può interessare sicuramente questo discorso qui appunto si rimanga appunto sintonizzato rimanga con noi ovviamente tutte le nostre dirette le trovate sempre comunque disponibili indicizzate poi qui sulla pagina come appunto hashtag io resto a casa emergenza coronavirus e le trovate poi anche ovviamente sul nostro canale youtube perché vengono caricate oggi siamo al giorno 2 quindi le troverete caricate per giorno sostanzialmente quindi ieri giorno 1 giorno 2 andiamo avanti ovviamente così vi dicevo appunto del lucet questo strumento di origine medievale ne abbiamo già parlato pare l'anno scorso quindi trovate comunque sul nostro blog dei video per imparare ad utilizzarlo è uno strumento che sembra un forchettone vedete si chiama lucet in legno ha una bellissima presa può essere quindi portato anche ovviamente tranquillamente dentro la borsa senza un pensiero e serve per realizzare le trecce di lana appunto come funziona lucet allora cominciamo ad inserire il filo all'interno di questo buco che vedete qua scusate ovviamente ci sono gli impedimenti tecnici dovuti alla diretta andiamo diciamo ad infilarlo in questo modo all'interno del buco ovviamente è meglio utilizzare della lana piuttosto grossa non è che non funzioni il lucet con la lana diciamo più piccola più 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 stretta diciamo così meno meno grossa ma dà la resa migliore quando utilizziamo della lana bella bella spessa bella grossa cominciamo quindi a considerare che il filo va appunto fatto passare da dietro ad avanti in questo modo quindi noi lo andiamo ad infilare all'interno del buco del lucet e poi facciamo questo movimento non ci possiamo sbagliare perché il movimento è sempre da dietro verso avanti da dietro verso davanti vedete passando sempre per dietro la stessa cosa facciamo a questo punto sull'altro lato del forchettone del lucet rifacciamo quindi primo passaggio vado ad infilare il filo all'interno del buco in questo modo semplice è una cosa molto molto semplice quindi molto bella anche ad utilizzare ad utilizzare ovviamente nei laboratori didattici quindi il filo entra attraverso questo questo buco che vedete centrale e poi a questo punto lo dovete far passare da dietro vedete la forchetta diciamo del lucet è fatta come una forchetta normale sostanzialmente però abbiamo un buco in mezzo in teoria potreste utilizzare anche una forchetta normale sostanzialmente però non avete il passaggio appunto del vostro lavoro mano a mano che scorre comunque fate entrare diciamo la la codina del filo all'interno e poi cominciate a passare con il filo vedete dietro da dietro ad avanti una volta che siete diciamo che avete passati da dietro ad avanti fate la stessa cosa sull'altro lato del forchettone sempre passando da dietro ad avanti adesso che siete così ripassate di nuovo dove siete passati prima sempre da dietro e andate a prendere questo filo diciamo che vedete ci sono due fili no a questo punto sul primo diciamo sul primo lato del forchettone che avete lavorato andate a prendere quello che sta sotto e lo portate sopra chi lavora a telaio sicuramente abituato diciamo a fare questo tipo di operazione perché poi quella che si fa anche con i telai manuali la stessa cosa di nuovo sempre passando da dietro ad avanti facciamo sull'altro lato del forchettone di nuovo abbiamo un filo sotto che va a passare sopra e comincia a crearsi appunto la la treccia è molto molto semplice diciamo come lavorazione a questo punto perché non devo fare altro che tirare diciamo su quello che sta in basso e andare appunto avanti sempre passando da dietro ad avanti e a questo punto proseguo vedete solamente diciamo chiaramente cercate diciamo io adesso perché appunto ho la diretta quindi sono un pochino diciamo cercate diciamo di tenere il filo abbastanza sciolto ovviamente in modo da non fare fatica e vedete che la treccia comincia appunto a formarsi all'interno diciamo del buco molto 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 semplice come tipo diciamo di di utilizzo come tipo di attrezzo voglio dire assolutamente semplice diciamo da imparare estremamente intuitivo vedete non dovete fare altro che portare il filo che viene passando ovviamente da dietro non vi potete sbagliare perché perché il movimento alla fine è sempre lo stesso cioè una volta che voi avete capito che dovete che dovete fare non questo movimento ma questo cioè passare sempre da dietro ad avanti una volta che avete fatto questo assolutamente non vi potete sbagliare perché sempre da dietro ad avanti comunque ripeto adesso io ve l'ho portato in diretta proprio per nell'ambito diciamo del nostro progetto in diretta però nel nostro diciamo laboratorio in diretta nel progetto nell'ambito diciamo del dell'iniziativa io resto a casa ma trovate il tutorial completo già sul nostro blog sul nostro canale youtube il video tutorial ovviamente cercate lucet sostanzialmente diciamo vi basta cercare lucet anche su google perché bricomaghi è una delle poche che ha parlato di questo strumento e che ha fatto vedere come funziona voi ovviamente quando andate ad acquistare questo oggetto in particolare questo oggetto è prodotto da una cioè questo lucet che vi presento io che è prodotto da una ditta francese ricevete anche delle istruzioni queste istruzioni però non sono assolutamente come del resto diciamo ovviamente non sono molto chiare ripeto quindi diciamo anche questo oggetto può andare incontro a quella che noi chiamiamo essere un po' la mortalità di utilizzo nel senso non ho capito bene come si usa e quindi lo metto in un cassetto e non lo utilizzo in realtà ripeto è divertente può essere anche utilizzato come un antistress e poi ovviamente ci dà la possibilità di realizzare queste bellissimi questi bellissimi tubolari vedete ovviamente voi non è che non potete utilizzare il filato più sottile lo potete anche fare però sicuramente con questo lucet poi sinceramente non so ma non credo che esistano dei modelli anche di lucet meno spessi diciamo così con questo così come fatto questo è diciamo che è soprattutto adatto per per la lana grossa diciamo più che per la lana sottile però voglio dire non è che non potete usarla assolutamente solo che ovviamente vi viene molto più lasca la treccia cioè più usate lana spessa e più vi viene ovviamente questo può essere un valido strumento ad esempio se voi lavorate molto con i tubolari perché magari poi lo utilizzate per fare oggetti per decorare lavorate con i tubolari come sapete e ve lo porterò ovviamente questa settimana potete usare i tricottini cosiddetti manuali oppure potete usare i tricottini quelli a manovella io vi porterò tutto perché voglio farvi vedere la differenza ovviamente se voi lavorate con i tricottini sia quelli a manovella che quelli manuali vedete da dietro a davanti e con quelli manuali non avete diciamo la possibilità di realizzare tubolari molto spessi perché comunque la lana che dovete andare a utilizzare è una lana piuttosto sottile il cotone insomma il filato che è richiesto per l'utilizzo c'è un tubolare che vi porterò scusate un tricottino della prim che invece è molto più spesso e serve proprio per utilizzare spesso nel senso che è più grosso e serve per realizzare tubolari con lana vera e propria quindi tubolari diciamo con filato grosso e ve lo porterò perché ce l'abbiamo e poi vi porterò ovviamente anche quelli a manovella per farvi un po' vedere la differenza fra il procedimento manuale e il procedimento a manovella questo strumento invece si chiama l'uset quindi alla fine se voi avete i tricottini a manovella quelli manuali con i quali realizzate i tubolari con lana con filato sottile con cotone sottile e poi invece avete bisogno magari di realizzare anche dei tubolari con lana quindi comunque con filato più spesso sicuramente avere anche un luset può essere appunto comodo vedete che bello poi ovviamente con queste trecce ci potete fare tutto quello che la fantasia in qualche modo vi suggerisce sostanzialmente adesso io disfo un attimo il lavoro perché poi la lana mi serve perché voglio farvi vedere qualche ulteriore qualche punto diciamo di maglia appunto con i ferri allora so che alcuni ci hanno scritto comunque avete visto diciamo in giro il discorso uncinetto molti hanno fatto stanno parlando in questo periodo si si fa un gran parlare diciamo soprattutto di uncinetto e di ferri da maglia come sapete noi partiamo sempre dall'abc io qui vi ho portato un ferro da maglia in legno perché voi trovate ferri da maglia in diverso materiale diciamo che adesso rispetto a chi iniziava anni fa è veramente molto meglio perché comunque trovate se parliamo soprattutto di maglia diciamo che parecchia scelta nel senso voi avete l'uncinetto in metallo avete la possibilità di acquistare dei veri e propri set e adesso poi ve ne faccio vedere uno perché ce l'ho set cioè dove avete varie misure perché ovviamente qui abbiamo ad esempio io ve ne ho portato uno qui a vedere il legno in bambù invece più che legno e bambù sono 8 mm quindi è un ferro abbastanza grosso a differenza invece di ferri più diciamo come dire in altri materiali ovviamente in metallo eccetera quindi trovate tanta tanta scelta ovviamente molto dipende dalla vostra manualità nel senso che il ferro in bambù in particolare può essere amato può essere odiato sostanzialmente non è proprio per tutti la stessa cosa però abbiamo sostanzialmente parecchia scelta abbiamo ad esempio dei ferri e dopo vi faccio vedere che hanno la doppia punta sia da una parte che dall'altra voglio dire anche lì molto dipende dalla vostra manualità quindi all'inizio sicuramente sarete un po' spersi nell'ambito diciamo di tutta questa scelta di materiale che che c'è chiaramente a disposizione e che potete appunto andare a reperire lo stesso discorso per quanto riguarda ovviamente l'uncinetto qui ad esempio io vi ho portato un uncinetto con il panico ergonomico che è questo qua che a differenza di quanto si possa pensare comunemente non è gommoso assolutamente è comunque una plastica abbastanza rigida però dà diciamo una presa durante la lavorazione sicuramente maggiore rispetto all'uncinetto tradizionale che è questo qui qui ad esempio abbiamo la stessa misura più o meno di uncinetto parliamo di un 4 4 4 4 mezzo con la differenza tra manico appunto ergonomico e manico non ergonomico io sinceramente voi se ci seguite con Bricomachie sapete che non do una cosa un consiglio univoco nel senso che anche in questo caso può non essere diciamo come dire la scelta giusta per un certo tipo di manualità il manico ergonomico che significa significa che non è sicuramente la panacea di tutti i mali perché è un manico che o si ama o si odia quindi ad alcuni proprio il manico ergonomico non piace si trovano molto meglio con l'uncinetto tradizionale diciamo così e che cosa succede allora ovviamente quando voi prendete in mano un uncinetto e volete iniziare a lavorare l'uncinetto questo l'ho detto anche qualche settimana fa durante un'altra nostra diretta e non sapete dove mettere le mani la prima cosa che dovete fare è procurarvi un uncinetto anche se non avete questo con il manico ergonomico fa lo stesso prendete un uncinetto classico tradizionale che lo trovate dappertutto lo avete sicuramente anche in casa in qualche cassetto tiratelo fuori e procuratevi un paio di forbici e un gomitolo di lana che può essere qualsiasi tipo tipologia semplice quindi non filati di lurex non filati che abbiano diciamo del metallo all'interno perché dovete appunto imparare realizzate il gomitolo e se volete vi faccio vedere anche in diretta come facciamo perché quando voi andate ad acquistare un gomitolo in merceria avete questa tipologia di gomitolo questo qua ma dovete chiaramente per comunque darvi uno sprint diciamo di lavorazione che possa essere più funzionale possibile portare questo a questo realizzarvi il gomitolo una volta fatto questo prendete una borsetta realizzate il vostro kit dove metterete il piccolo gomitolo metterete l'uncinetto e metterete un paio di forbici questo è tutto quello del quale diciamo che vi necessita per imparare a lavorare all'uncinetto voi e ovviamente se lo volete insegnare ai vostri bambini perché si può benissimo fare considerate che questo è l'unica cosa appunto di cui avete bisogno filo e uncinetto per quanto riguarda poi i punti di lavorazione diciamo che gli unici punti assolutamente necessari da imparare sono la catenella il punto basso e il punto alto perché una volta che voi avete imparato a realizzare questi tre diciamo tre punti chiamiamoli così perché alla fine anche la catenella si può chiamare punto perché alla fine ci sono delle lavorazioni dove praticamente si fanno solo catenelle giù di lì comunque è fondamentale imparare voi potete procedere tranquillamente perché tutti i punti di uncinetto che in realtà è una tecnica moderna cioè si pensa che chissà chi faceva l'uncinetto assolutamente credo che sia una tecnica setto-ottocentesca diciamo è moderna come tecnica uncinetto così come lo conosciamo però ripeto la lavorazione comunque vi dà la possibilità oltre a essere un validissimo antistress cioè utilizzando questi tre punti voi praticamente fate tutto perché tutto quello che vedete sostanzialmente poi magari vi faccio vedere qualche libro che abbiamo proprio inerente ai punti di uncinetto sono tutti delle lavorazioni che partono che nascono da queste tre cose di base quindi una volta che avete imparato queste tre cose di base poi il resto diciamo va da sé sostanzialmente cominciamo con il cosiddetto cappietto chi non ha mai lavorato all'uncinetto non sa neppure come si fissa si carica il filo sull'uncinetto magari ha già lavorato ai ferri ai ferri la lavorazione è differente perché sui ferri le maglie cadono in gruppo sostanzialmente dipende da quanti punti abbiamo sull'uncinetto a meno che non usiamo l'uncinetto tunisino che è molto più lungo e un altro tipo di lavorazione scusate il filo cade diciamo il punto cade uno per uno sostanzialmente sull'uncinetto questa è già una prima differenza per imparare inoltre se non avete mai lavorato all'uncinetto io consiglio caldamente un uncinetto numero 4 4 e mezzo al massimo e un filato corrispondente punto non inventatevi uncinetti troppo grandi uncinetti assolutamente troppo sottili dove non andiamo a vedere la capocchia perché vedete come è fatto un uncinetto a questa parte diciamo la testa dell'uncinetto e la coda allo stesso modo un uncinetto tradizionale eccolo qua perché dico questo perché se voi vi iniziate a lavorare su un uncinetto che non corrisponde a questo mediano poi potreste andare incontro a delle difficoltà perché vi abituate troppo a lavorare magari sul grande quindi poi la stessa cosa con i ferri da maglia se voi iniziate con ferri molto grandi adesso usano tantissimo la DMC ha lanciato questa linea di ferri in bambù in legno grandi 12 veramente ferri grandi con lana grande eccetera eccetera lana scenografica voglio dire poi dopo se voi voleste andare a lavorare con i ferri quelli tradizionali quelli del 4 quelli diciamo quelli che si trovavano che si trovano ovviamente che si trovavano solo quelli in metallo fino a poco tempo fa potreste andare incontro a delle serie difficoltà poi da un punto di vista proprio della procedura della manualità che è necessaria la stessa cosa se impariamo su ferri troppo piccoli però diciamo che adesso questo non è tanto il rischio adesso più che altro il rischio è quello di partire con lana grosse e i ferri grossi meglio partire sempre con una via di mezzo sia per quanto riguarda l'uncinetto e sia per quanto riguarda i ferri ovviamente quelli in legno in bambù sono più sicuri da molti punti di vista perché non hanno diciamo quella parte metallica anche se i ferri oggi in metallo non sono i ferri in metallo che potevano utilizzare che utilizzavano le nostre nonne assolutamente sono realizzati in maniera assolutamente più sicura hanno la punta assolutamente meno pericolosa è difficile diciamo farsi male sostanzialmente non si arrugginiscono cioè sono tecnicamente sicuramente migliori e si vede se voi ne avete in casa diciamo un po' e un po' la differenza comunque la vedete la notate è evidente io sinceramente ho imparato a lavorare a maglia con questi ferri qua che sono appunto ferri grossi quindi esattamente il contrario di quello che vi dicevo prima sostanzialmente e infatti proprio per quello vi dicevo che adesso sto tentando di imparare con i ferri più sottili cioè quelli del 4 e sto incontrando delle difficoltà tanto che forse sto incominciando a pensare che la lavorazione ferri per me a me piace sinceramente di più quando parliamo di ferri grossi di lana grossa sostanzialmente però voglio dire non c'è suono forse più piacevole di questo vedete sentite diciamo a me piace lavorare con i ferri in legno ovviamente anche lì questione di abitudine questione di gusto però se dovete imparare io consiglio comunque di partire sempre con misurazioni mediane come per l'uncinetto come faccio caricare il filo sull'uncinetto ovviamente così non posso chiaramente lavorare quindi ho bisogno di prendere il filo e di formare il cosiddetto cappietto come faccio quello che faccio io è quello che ho imparato a fare io e quello che faccio sempre io perché sostanzialmente quando voi imparate un tecnica soprattutto se siete all'inizio dei vostri percorsi quella è cioè tendete a fare sempre così però però ci sono varie tecniche non c'è soltanto questa quindi se voi avete imparato a fare diversamente a parte che queste nostre video lezioni si indirizzano soprattutto a chi appunto ha voglia di imparare non sa fare eccetera però ripeto se voi sapete già fare e fate diversamente benissimo ci sono tante tecniche per realizzare il cappietto io faccio così ho sempre fatto così cioè prendo il dito indice tengo il pollice in questo modo il filo ecco la codina che scorre vedete da una parte ho la codina del filo che tengo abbastanza lunga e dall'altra ho appunto verso diciamo la parte interna della mia mano ho il filo di lavorazione in questo modo se avete il filo prendetelo così fate con me a questo punto con la mano dominante prendo la codina e le faccio fare un giro sopra il dito indice e poi di nuovo un altro giro vedete due adesso ripeto quindi verso l'esterno della mano sta la codina verso l'interno della mano ho il mio filo di lavorazione appunto con la mano dominante prendo a chiappo saldamente la codina del filo e faccio fare un giro sopra il dito indice della mia mano non dominante quindi nel mio caso la sinistra a questo punto gliene faccio fare un altro ecco qua la codina filo di lavorazione vedete che si sono creati sul mio dito indice tre fili che sono stata io ovviamente a creare tre fili per creare il capietto prendo quello centrale e lo porto sopra a quello diciamo più esterno quello che sta verso la punta poi di nuovo quello che sta al centro lo porto sopra di nuovo si è creato una sorta di anello vedete qui un anello dove vado ad inserire l'uncinetto adesso vi faccio rivedere però ovviamente faccio il mio movimento due volte ottengo tre fili quello al centro lo devo portare sopra quello che sta diciamo verso la punta del dito adesso al centro c'è questo di nuovo sopra vedete si è creato una sorta di anello no qui centrale un anello prendo l'uncinetto e vado ad inserire l'uncinetto all'interno di questo anello modo che il cappietto da punta dell'uncinetto passi proprio sotto al filo centrale a questo punto lascio andare tutto e tiro vedete si è creato il cappietto ovviamente ovviamente non dovete tirare stringere perché uno dei problemi e dei diciamo dei problemi però ovviamente sono tutte cose superabili poi andando avanti con le lavorazioni è quello di stringere troppo il filo mentre lo lavoriamo e questo vale sia per l'uncinetto che per i ferri soprattutto quando voi siete all'inizio delle vostre lavorazioni quindi siete proprio diciamo ai primi giri sostanzialmente è molto importante lasciare tutto molto lasco il cappietto lasco perché ovviamente poi non è finita qua dobbiamo andare a lavorare e la lavorazione interesserà anche il cappietto quindi ovviamente se è troppo stretto ci dà poi delle difficoltà di avvio dello stesso lavoro sostanzialmente quindi tenetelo piuttosto largo adesso vi faccio rivedere senza ovviamente parlare così vedete appunto il movimento anzi ripeto se avete un gomitolo andatelo subito a prendere così lo fate con me quindi abbiamo parlato di dei giri ovviamente questo va sopra questo e quest'altro al centro lo mandiamo sopra quell'altro si ferma una si forma una sorta di capietto di buco sostanzialmente di anello prendete l'uncinetto che fino adesso aveva diciamo avevate lasciato sostanzialmente posato perché non vi serviva lo prendete e andate a mettere l'uncinetto all'interno di questo anello in modo che la testa tocchi proprio il filo quello che sta al centro a questo punto lasciate via tutto quanto mollate tutto e tirate vedete si sta formando il mio cappietto che è meglio lasciare l'asco come vi dicevo non laschissimo voglio dire non è che lo dovete lasciare un chilometro ma neanche tutto stretto stretto attaccato all'uncinetto ed è diciamo il rischio che si fa quindi lasciatelo bello largo a questo punto il filo è diciamo fissato all'uncinetto e possiamo iniziare la nostra lavorazione la prima cosa che dobbiamo fare è realizzare una catenella allora quando voi andate a comprare le riviste ad esempio in edicola i libri per imparare a lavorare all'uncinetto ci sono due scuole di pensiero sostanzialmente la prima vi dice qual è il numero di catenelle con il quale dovete iniziare per una certa lavorazione ad esempio vogliamo realizzare una sciarpa e abbiamo bisogno che non so di 40 catenelle per dire ovviamente voi dovete comunque riferirvi al tipo di filato che utilizzate perché le catenelle vi danno in questo caso la larghezza del vostro lavoro quindi se io ho un filato sottile per arrivare a questa larghezza ho bisogno magari di 50 catenelle se io parto da un filato che è il triplo o il doppio ovviamente arriverò molto prima a questa larghezza quindi avrò bisogno di meno catenelle iniziali di conseguenza questa è diciamo una questione da affrontare perché quando ovviamente voi andate a seguire uno schema non sempre lo dicono e comunque magari è sempre riferito a un certo tipo di filato quindi voi dovete sempre riferirvi al vostro di filato sto utilizzando lo stesso filo che è indicato sullo schema sì allora se sto utilizzando lo stesso filo con lo stesso spessore allora non c'è problema se mi dicono di iniziare con 40 catenelle uso 40 catenelle sto utilizzando un filato diverso molto più spesso molto più sottile sì allora devo comunque considerare mettere mano al metro al classico metro da sarta e andare a misurare la lunghezza ovviamente la stessa cosa quando dobbiamo andare a realizzare qualcosa che può variare a seconda delle nostre misure dobbiamo realizzare una sciarpa per un bambino dobbiamo realizzare una sciarpa per noi dobbiamo realizzare una sciarpa per nostro marito insomma per delle misure o per nostra moglie ovviamente perché naturalmente questi discorsi non hanno diciamo genere sono aperti assolutamente a tutti chiunque voglia imparare a realizzare questo tipo di lavorazione ad imparare l'uncinetto ovviamente dovrò diciamo adeguarmi in base chiaramente al materiale che io ho a disposizione proprio per questo io trovo molto utile usarlo subito il metro nel senso io voglio realizzare una sciarpa che sia larga non lo so 20 centimetri 30 centimetri va bene questo è quello che voglio raggiungere con questo tipo di filato quante catenelle mi servono per arrivare a quella larghezza e quindi poi mi regolo di conseguenza ovviamente con il metro alla mano questo è importante perché sembra una cosa diciamo banale però è uno dei problemi soprattutto che si incontra soprattutto all'inizio quando uno ovviamente non è molto esperto segue un certo schema può a volte rischiare di trovarsi poi con un prodotto finale che non è corrispondente a quello che avrebbe voluto perché magari è molto più corto è molto più lungo cioè ci sono delle misure che poi non buttano sostanzialmente cioè non tornano con quelle che uno avrebbe voluto e questo perché non si fa abbastanza riferimento al materiale che si sta utilizzando rispetto al materiale che utilizza chi ci propone chi ci indica un certo schema quando dovete iniziare a lavorare all'uncinetto non inventatevi cose strane nel senso realizzate cose semplici una sciarpa una presina una cosa semplice molti consigliano ad esempio di iniziare appunto con una presina con un sottopentola un quadratino una cosa diciamo semplice anche nì nel senso che voi dovete avere qualcosa che vi permette di usare parecchio tempo su quella lavorazione perché dovete comunque imparare a vedere come cambia la vostra lavorazione a seconda del livello di padronanza che acquistate quindi una sciarpa secondo me è l'ideale perché voi quando l'avete finita potete veramente vedere sul vostro manufatto quanto avete migliorato quanto è cambiato il vostro approccio il vostro lavoro all'inizio come era titubante come era incerto e poi via via come va a migliorare ovviamente non avrete un manufatto perfetto perché nessuno nasce imparato e soprattutto bisogna togliersi dalla testa che ci vogliano chissà quali cognizioni personali chissà quale abilità diciamo come dire di base quasi fossero scritte nel DNA per fare questo tipo di lavorazioni perché non è così impegno costanza bastano quei 5 minuti al giorno che magari di solito impegniamo in altre cose perché voglio dire si sente troppo la frase ma io non ho tempo in realtà il tempo dipende da come lo utilizziamo sostanzialmente per cui se uno vuole il proverbio dice il tempo si trova magari si sottrae ad altri tipi di cose che si fanno sostanzialmente ad altre attività se a una persona interessa imparare una certa cosa interessa imparare un certo hobby sottrai magari altro tempo che ha ovviamente ad altre cose appunto lì dove lo può fare tutti noi sappiamo dove possiamo smussare per arrivare all'obiettivo cioè per arrivare a imparare qualcosa di nuovo la stessa cosa con l'uncinetto sostanzialmente quindi non è che uno ci debba avere 3 o 4 ore al giorno per lavorare all'uncinetto e per imparare ovviamente ovviamente ci sono delle lavorazioni che obbligano perché sono così ad avere del tempo a disposizione ma non è tanto quello nel senso voglio dire anche se uno poi realizza due cose all'anno che problema c'è nel senso basta che sia divertito sia tranquillizzato sia rasserenato ha utilizzato l'uncinetto per per tranquillizzarsi come sfogo perché è una cosa che gli piace fare poi se invece di uno magari che ha un certo tot di minuti a disposizione realizzerà due manufatti l'anno chi ha più tempo realizzerà 20 realizzerà 30 ci sarà anche qualcuno che venderà i suoi manufatti cioè voglio dire lì dipende ovviamente dalla vostra vita personale però nulla vieta di dedicare 5 minuti 10 minuti al giorno ad imparare ad utilizzare l'uncinetto per non parlare poi diciamo in qualche modo di quelle che sono le potenzialità che si spalancano poi a livello didattico i nostri ragazzi hanno bisogno come il pane di imparare tecniche manuali di cimentarsi con manufatti propri con cose che possono realizzare e personalizzare quindi insegnare loro a farlo è uno dei più grandi regali che come educatori si possano si possano fare perché è qualcosa che gli rimarrà per sempre qualcosa che poi loro decideranno di utilizzare o meno una potenzialità che gli viene data e poi quello che è il tempo sostanzialmente che poi dovrebbe essere anche un tempo diciamo più che dell'orologio a me piace parlare di un tempo evolutivo diciamo così di un tempo esistenziale per cui anche quei 5 minuti lì possono avere un valore tale da che non riesce magari a dare che non riescono magari a dare due ore di tempo dell'orologio è un tempo di valore che voi date come educatori quando insegnate a realizzare l'uncinetto quando realizzate magari i ragazzi più grandi a lavorare a maglia è un tempo di valore è un valore con la V maiuscola che voi date e non c'è poche cose sono così importanti come fornire degli strumenti di questo tipo strumenti che poi interiorizzano fanno loro e ti fanno parte di quello che è il loro bagaglio personale chi ha imparato questo tipo di lavorazione ad esempio in casa chi l'ha imparato dalle mamme chi l'ha imparato dai nonni lo ricorda poi nella vita come una delle esperienze più belle che abbia mai vissuto non perdiamoci queste cose non perdiamoci queste realtà non le lasciamo diciamo andare verso un passato che non torna ma buttiamole sul futuro buttiamole sulle nuove generazioni buttiamole in quello che è il nostro domani sostanzialmente e togliamole diciamo togliamogli quella patina del ricordo per dargli invece la forza che dà il sole del presente sostanzialmente comunque chiudendo diciamo con questo discorso tornando a bomba le catenelle in alcuni schemi voi trovate un'indicazione che vi dice 20 catenelle 30 catenelle 40 catenelle in altri casi voi trovate invece un'indicazione che vi dice realizza una catenella ed ecco qui che l'inesperto la persona diciamo che non ha mai lavorato in uncinetto entra nel panico perché dice come una catenella come posso iniziare una sciarpa a partire da una catenella in realtà lì l'idea è che la catenella diciamo è considerata unica fatta da tante catenelle quindi io ho 20 catenelle posso dire iniziamo il lavoro con 20 catenelle oppure iniziamo il lavoro con una catenella da 20 oppure con una catenella da 5 cm da 10 cm da 15 cm queste sono sicuramente le indicazioni migliori perché perché il numero di catenelle come dicevamo prima è fortemente collegato al filato che io sto utilizzando quindi molto meglio lo schema che mi dice questa lavorazione ha una larghezza di 20 cm no per cui è un sistema oggettivo io ho un metro 20 cm sono 20 cm a casa mia e a casa tua ovviamente no c'è un metodo oggettivo ovviamente il fatto che io abbia 20 cm raggiunti in un certo modo cioè io ho un filo che mi consente di arrivare a 20 cm con 10 catenelle tu usi un filato molto più sottile e quindi ti scivolranno magari 40 50 catenelle per arrivare a quei 20 cm ma dobbiamo arrivare tutti ad avere una catenella da 20 cm nel mio caso io ad esempio adesso voglio realizzare per dire 20 catenelle ho portato questo filo che ha questo spessore e come faccio ho il cappietto comincio a prendere diciamo innanzitutto l'ordine è fondamentale quando si lavora l'uncinetto per cui voi tenete sempre il vostro filo di lavorazione da un lato e la cadena e diciamo la codina del filo di lavorazione dall'altro è importante perché durante la lavorazione vi potete impicciare poi con i fili di lavorazione se non sono ben separate ben distinti io generalmente prendo il filo di lavorazione dal lato della lavorazione quindi dove c'è diciamo la mia mano non dominante sostanzialmente in questo caso la sinistra mentre lascio la codina verso la mano dominante quella cioè con la quale tengo l'uncinetto ovviamente non tenete queste codine chilometriche che vi confondete perché una delle diciamo così delle situazioni poi che si verificano è quella di lavorare la codina quindi quando avete finito poi di lavorare la codina vi rendete conto che vi siete sbagliati e che non avete usato il filo di lavorazione ma avete utilizzato la codina cose viste riviste non c'è problema disfate ricominciate come dico sempre io sbagliando si impara assolutamente però diciamo tenete quindi la codina da questa parte il filo di lavorazione da quell'altra cominciate a metterlo sopra l'uncinetto partendo come vi dicevo prima con il lucet da dietro verso davanti la movimento è sempre questo anche quando lavoriamo con i telai manuali quelli diciamo in plastica partiamo sempre da dietro e andiamo verso davanti da dietro vedete siamo sul dietro dell'uncinetto e lo portiamo davanti da dietro ad avanti da dietro ad avanti dietro davanti ovviamente se io faccio questo tipo di movimento mi ritrovo con due fili sull'uncinetto uno e due ovviamente che cosa devo fare per realizzare la mia prima catenella devo portare la testa dell'uncinetto sotto il cappietto sotto il filo diciamo del cappietto che corrisponde ovviamente al cappietto che in questo caso è quello più verso il manico dell'uncinetto facendo ovviamente scorrere per quello vi dicevo che il cappietto deve essere l'asco perché se il cappietto è troppo stretto non riusciamo a passarci ovviamente sotto quindi capietto l'asco faccio passare la via testa dell'uncinetto sotto ed ecco qua che ho realizzato la mia prima catenella di nuovo filo sull'uncinetto partendo da dietro verso davanti di nuovo mi ritrovo con due fili sull'uncinetto la testa dell'uncinetto deve scorrere per passare sotto il filo diciamo più vicino al bordo dell'uncinetto e abbiamo la seconda catenella filo sull'uncinetto e la testa deve passare qui sotto più tenete l'asco il vostro lavoro e più vi riesce meglio questa operazione perché se tenete tutto bello stretto tirato verso l'uncinetto ovviamente scorre con difficoltà l'uncinetto stesso quindi questa può essere una ragione la prima se trovate difficoltà magari è perché state stringendo troppo diciamo qua c'è troppo tensione ovviamente e quindi vi scorre male l'uncinetto se no se vi tenete l'aschi il tutto scorre molto bene vedete ovviamente io adesso dovrò realizzare un toto di catenelle necessarie alla mia lavorazione come vi dicevo io voglio iniziare ad esempio con una sciarpa con questo tipo di filato a parte che posso tranquillamente misurarla utilizzando ovviamente un metro tranquillamente però magari ho bisogno non lo so vedete quelle catenelle ho bisogno di 50 60 catenelle per arrivare magari a questa larghezza ovviamente misurate cioè fate un tot di catenelle poi prendete il metro e misurate se vi va bene quella larghezza per l'oggetto che state realizzando io personalmente dovendo riferirmi a un discorso fordammis diciamo così per insegnare a chi non ha mai utilizzato l'uncinetto ripeto consiglio una sciarpa una sciarpa perché ripeto è un progetto che vi impegna tanto tempo potete metterci anche dei mesi alla fine 5-10 minuti al giorno voi sapete che vi fate un paio di giri al giorno non avete l'ansia di dover finire ultimare il lavoro rapidamente e poi di iniziare in altro cioè avete la possibilità di dedicarvi a quello per un po' di tempo e quindi anche se voi ci dedicate 5 minuti 10 minuti al giorno vi fate un giro della vostra sciarpa il giorno che magari avete più tempo volete impegnarci più tempo magari vi fate 5-6 giri il giorno che ne avete meno o volete impegnarne meno perché ovviamente date priorità ad altro vi fate un giro solo la cosa importante è la costanza cioè riuscire a non passare un giorno senza averci magari dedicato 5 o 10 minuti perché è così che si migliora con questo tipo di tecniche cioè il fatto di impegnarsi a dare 5-10 minuti cioè un po' come la palestra no? cioè magari uno parte tutto lanciato a gennaio o a settembre e poi dopo magari diciamo ci va ci va una volta al mese voglio dire poco fa sostanzialmente quello che fa è la costanza per cui bastano quei 5-10 minuti al giorno da dedicare poi ovviamente uno diciamo si organizza per impegnare più tempo o meno però sostanzialmente questo è e quindi realizziamo io ad esempio qui faccio ad esempio mentre vi parlo voglio fare per iniziare la mia lavorazione voglio fare 40 catenelle ovviamente io le conto una due tre vado avanti diciamo contando le catenelle fino che raggiungo appunto una lunghezza tale che mi consente di cominciare con il mio lavoro l'idea sarebbe quella di cominciare proprio a fare qualche cosa da qui diciamo a questi giorni per cui adesso vado a fare una riga che mi diciamo usate la rapidità vi ho fatto vedere appunto come si fa adesso perché voglio arrivare a farvi vedere ovviamente il punto basso ma lo voglio fare con un tot di catenelle già predisposto diciamo allora adesso io vi faccio vedere no questa è la catenella composta da tot di catenelle se non lo contate però questo è non vi pensiate che all'inizio avrete tutte queste catenelle una uguale all'altra assolutamente perché all'inizio probabilmente vi verranno fuori catenelle un po' diverse un po' bislacche diciamo così un po' diverse l'una dall'altra perché è normale ovviamente tutta una questione di polso di manualità quindi acquisite piano piano la capacità diciamo di procedere come dire più o meno rapidamente diciamo con con la con la vostra lavorazione ma anche diciamo come dire il vostro lavoro poi ne trae più o meno beneficio sostanzialmente è il lavoro il primo che trae beneficio da da quello che voi diciamo dall'esercizio sostanzialmente dal tempo che voi comunque impegnate e dalla dal vostro miglioramento da un punto di vista tecnico il primo ovviamente che ne trae vantaggio è il vostro lavoro sostanzialmente a questo punto vi faccio vedere come si esegue il punto basso che è diciamo uno dei dei tre vi dicevo la catenella il punto basso e il punto alto sostanzialmente dobbiamo entrare all'interno per realizzare il punto basso della catenella quindi prendiamo vedete com'è fatta la catenella la catenella è fatta diciamo come come una catenella sostanzialmente adesso non vi dovete preoccupare di quelle che sono le questioni troppo tecniche perché ripeto come già vi ho detto prima le migliorerete andando avanti andiamo all'interno di una delle catenelle vedete andando dentro alle catenelle voi vi ritrovate con due fili sopra l'uncinetto prendete il filo sopra l'uncinetto sempre dal dietro al davanti e passate sotto con il cappietto al filo centrale avete due fili sull'uncinetto di nuovo filo sull'uncinetto e passate all'interno di entrambi ovviamente quando voi partite da una catenella e dalla catenella lavorate i vostri punti bassi che saranno uguali rispetto al numero di catenelle che avete incontrate una difficoltà che non sarà la stessa che incontrerete dopo perché perché riuscire a lavorare all'interno delle catenelle è molto meno semplice rispetto a poi quella che sarà la lavorazione che farete dopo cioè andare poi a realizzare altri punti bassi magari a partire da una fila di punti bassi o punti alti a partire da una fila di punti bassi o di punti alti cioè lo vedete meglio il punto tant' è vero che in alcune lavorazioni si parte invece di si vedono male si fa una filo di catenelle ovviamente un filo di semplicissimi punti bassi e poi si comincia con la vera e propria lavorazione questo per dirvi che la difficoltà che incontrerete voi nel lavorare la vostra prima fila di punti bassi a partire dalla catenella o dalle catenelle appunto non è una difficoltà così banale così scontata sostanzialmente per cui non fermatevi perché è una difficoltà iniziale che però si supera facilmente comunque si entra all'interno della catenella quindi si vanno a creare diciamo due fili sopra l'uncinetto sempre dal dietro al davanti si butta il filo sull'uncinetto e con la testa dell'uncinetto si passa sotto il filo che sta in mezzo poi di nuovo filo sull'uncinetto e si passa attraverso entrambi i fili in modo che rimane sempre comunque sull'uncinetto un filo in realtà il punto basso non è che poi il punto alto non è che poi sia così diverso nel senso che alla fine lanceremo due volte l'uncinetto e allo stesso modo se dovremmo andare a realizzare dopo i punti alti o dei punti altissimi come si chiamano lanceremo tre volte l'uncinetto cioè alla fine tecnicamente le cose sono molto simili sostanzialmente non dobbiamo fare grossi diciamo cambiamenti e comunque quello che dovete fare sostanzialmente è questo cioè a livello tecnico poi tutto quello che viene dopo viene da lì cioè parte da lì una volta che voi avete imparato a fare la catenella il punto basso e il punto alto poi le cose vengono da sé diciamo vengono sostanzialmente da sole ovviamente se voi dovete diciamo realizzare un oggetto come dire da un capo d'abbigliamento ad esempio una sciarpa se la realizzate a punto alto la trama vi viene un pochino più vaporosa più lasca diciamo così il punto basso è un pochino più stretto ad esempio qui vedete un amigurumi realizzato a punto basso vedete com'è diciamo fitta la trama ovviamente quindi se dovete realizzare una sciarpa tutto tutto a punto basso vi viene diciamo molto fitta per quanto riguarda i punti potete anche alternare magari fate intanto la catenella iniziale poi vi fate una fila diciamo di punti bassi e poi vi fate magari una fila di punti alti in modo che all'interno della sciarpa voi avete la possibilità di imparare contemporaneamente due punti ora ad esempio io faccio qualche catenella faccio qualche punto basso vedete passo sotto entrambi di nuovo altra catenella sotto entrambi e vado appunto avanti ripeto se avete il filo e l'uncinetto nel nel tiretto come dice diciamo la rima cioè se avete l'uncinetto e il filo direttamente in qualche cassetto tiratelo fuori così diciamo cominciate a lavorare ovviamente vedete quello che vi dicevo prima cioè filo bello libero cioè filo tranquillo senza elementi diciamo di lurex o altro ci sono dei fili strepitosi ma non sono l'ideale per iniziare perché voi dovete vedere bene la catenella e non è già di per sé non è semplicissimo e quindi ci mettete ancora i fili di lavorazione complicati questo è una questa è la nostra prima fila di punti bassi vedete dalle catenelle siamo arrivati a questo come facciamo a ricominciare il nostro lavoro vi basta ovviamente girare cioè dovete cominciare dall'altro lato ovviamente non lo potete fare così dovete fare una catenella quindi ricominciate filo sull'uncinetto una catenella girate il vostro lavoro e a questo punto è molto più semplice perché più semplice perché io non ho più le catenelle che erano un po' complicate perché dovevo andare a vedere bene dove dovevo entrare all'inizio ve lo dico vi verranno delle file un po' stortignaccole è normale che vi vengano adesso è più semplice perché io ho da lavorare dei punti bassi non ho più la catenella quindi il punto lo vedo molto meglio vedete lo vedo sicuramente molto meglio quindi che cosa faccio diciamo sostanzialmente dopo aver fatto la catenella prendo il mio primo punto basso ci vado sotto e comincio diciamo a lavorarlo magari di nuovo a punto basso cioè entro dentro il punto basso butto il filo sull'uncinetto ed esco da entrambi i fili ma posso anche decidere di cominciare a lavorare a punto alto e non vi pensiate che sia chissà che cosa sostanzialmente perché vi basterà entrare all'interno del punto come facevamo prima filo sull'uncinetto lo passiamo sotto a questo punto dobbiamo di nuovo mandare il filo sull'uncinetto passare sotto quello centrale di nuovo filo sull'uncinetto e passo sotto entrambi ed ecco che ho realizzato un punto alto come dice la parola stessa punto basso punto alto sostanzialmente cioè uno è più basso e uno più alto ma in realtà il movimento è lo stesso soltanto che dobbiamo andare una volta di più a lanciare il filo sull'uncinetto rispetto al punto basso adesso vi faccio rivedere vedete allora io vado dentro al mio punto basso cioè all'interno ovviamente vedete come è fatto il punto qui c'è un piccolo buchino vado sotto filo sull'uncinetto passo sotto quello centrale come abbiamo fatto prima adesso se volessi fare un punto basso dovrei semplicemente ributtare il filo sull'uncinetto e passare sotto entrambi ovviamente invece io voglio fare un punto alto quindi filo sull'uncinetto passo soltanto sotto quello che sta al centro e quindi continuo ad avere due fili sull'uncinetto di nuovo filo sull'uncinetto e passo a questo punto sotto entrambi se io volessi realizzare un punto altissimo cioè un punto ho chiamato anche doppio punto alto ripeterei due volte questa operazione quindi mi ritroverei con un punto veramente molto alto come potete intuire o vedere quando io realizzo un punto basso la trama ovviamente più fitta quando realizzo un punto alto la trama più vaporosa più lasca vedete quindi dovendo imparare punto alto e punto basso sicuramente vi conviene alternare una fila magari di punti bassi da una fila di punti alti vedete quindi entro all'interno del mio punto vedete come è fatto il punto c'è un piccolo buchino qua con l'uncinetto vado dentro proprio filo sull'uncinetto passo sotto quello centrale e mi ritrovo con due fili sull'uncinetto volendo realizzare il punto alto di nuovo filo sull'uncinetto passo sotto quello che sta in mezzo e mi ritrovo con due fili sull'uncinetto di nuovo filo sull'uncinetto e a questo punto ovviamente passo sotto entrambi e rimango con un solo filo sull'uncinetto sempre di nuovo altro punto alto entro dentro ovviamente al punto sottostante filo sull'uncinetto lo tiro in dentro mi ritrovo con due fili sull'uncinetto filo sull'uncinetto passo sotto con la cappocchia dell'uncinetto con la destra dell'uncinetto a quello centrale ed eccomi qui con due fili sull'uncinetto di nuovo filo sull'uncinetto e passo a questo punto sotto a entrambi e mi ritrovo sempre e comunque con un filo sull'uncinetto vi ho già detto per girare il lavoro una volta che sono arrivata in fondo una volta che sono appunto arrivata in fondo al mio lavoro adesso vi faccio faccio un fretta così così vi faccio appunto vedere una volta che sono arrivata in fondo per girare il mio lavoro mi basta fare una catenella una catenella e vado a girare il lavoro e vado a fare un altro filo ovviamente qui ho tagliato tante parti diciamo perché noi dobbiamo adesso di tipo imparaticcio sostanzialmente per cui dobbiamo andarci piano con quelle che sono le novità diciamo così per cui cominciamo a fare semplicemente dei punti bassi una fila appunto di punti bassi in questo modo cioè entriamo con l'uncinetto nel punto sottostante lo portiamo sotto in questo modo due fili sull'uncinetto filo sull'uncinetto sotto entrambi ovviamente io adesso vi sto facendo delle dirette però se voi adesso volete imparare in maniera più rapida vedendo bene 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 tutti i movimenti diciamo con l'occhio fondamentalmente concentrato soltanto su quello con gli zoom e tutto quanto vi basta andare sul nostro canale youtube blog di bricomaghi e lì trovate assolutamente tutto quanto perché appunto ci sono le nostre pillole di uncinetto una volta che arrivate in fondo facciamo una catenella per voltare la catenella è importante la dovete fare sempre per voltare in modo da poter appunto avviare dritta la vostra lavorazione quindi giriamo il lavoro e ricominciamo adesso vogliamo fare dei punti alti abbiamo fatto una fila di punti filo sull'uncinetto entriamo nel filo diciamo nel punto sottostante entriamo dentro con l'uncinetto ci ritroviamo con tre fili sull'uncinetto uno due tre filo sull'uncinetto passo sotto quello centrale e poi passo sotto agli altri sostanzialmente vedete che ogni volta che io vado diciamo a sviluppare una diciamo come dire un'altezza di punto come vi ho detto prima cioè alto basso e altissimo vado sempre a fare una in più sostanzialmente adesso vi faccio rivedere una come si dice una vado ad aggiungere diciamo movimenti sostanzialmente sulla sulla mano quindi abbiamo detto facciamo la catenella entriamo all'interno filo però questa volta sull'uncinetto mi ritrovo con tre fili con tre qua siamo sul punto alto semplice no mi ritrovo con tre fili sopra l'uncinetto filo sull'uncinetto spasso sotto ai due che sono al centro mi ritrovo con altri due fili sull'uncinetto filo sull'uncinetto e passo sotto entrambi di nuovo siamo sul punto alto normale dentro sotto ovviamente due tre fili sull'uncinetto filo sull'uncinetto passo sotto i due diciamo che sono centrali filo sull'uncinetto e di nuovo passo sotto agli altri ed ecco qua ovviamente si tratta di esercitarsi 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 questo diciamo è la mantra diciamo così assolutamente il vostro obiettivo per imparare questo tipo di lavorazioni stessa cosa e qui vi ho portato il filato più grande e vi ho portato un ferro da maglia allora ripeto vi ho portato un ferro da maglia grossa perché voglio farvi vedere appunto il ferro dal movimento bello diciamo bello evidente allora quando iniziamo a lavorare a maglia per prima cosa dobbiamo caricare le maglie diciamo sui ferri quindi non utilizzeremo tutte e due i ferri ma ne utilizzeremo uno alcuni utilizzano tutte e due i ferri comunque li caricano insieme poi ne sfilano uno io sinceramente non lo faccio però voglio dire si può anche fare questo dobbiamo tenere una codina lunga perché in questo caso non è come con l'uncinetto che abbiamo come vi dicevo prima facciamo scendere ogni volta un filo una maglia in questo caso le facciamo scendere dopo tutte insieme quindi abbiamo bisogno all'inizio di caricarle sul ferro di conseguenza la codina che dobbiamo andare a considerare deve essere abbastanza lunga sicuramente sufficiente alle maglie che vogliamo andare a realizzare quindi se io sul ferro adesso voglio mettere 40 maglie per dire 20 maglie dovrò considerare una codina di quelle dimensioni lì sostanzialmente una volta una volta che mi sono tenuta quindi questa codina lunga vado a fare il semplice cappietto e abbiamo imparato ovviamente come farlo quindi vi faccio rivedere ma diciamo non è niente di trascendentale l'abbiamo già visto abbiamo avvolto i fili del quale filo è più grande magari lo vedete anche meglio si forma l'anello vado dentro questa volta con il mio ferro e ho appunto il cappietto anche in questo caso ovviamente non tirate cercate di tenere il cappietto bello largo bello lasco cosa devo fare adesso per caricare le maglie io faccio così ovviamente non fanno tutti tutti allo stesso modo ci sono diverse tecniche quello che vi faccio vedere io è riferito all'imparaticcio cioè se dobbiamo andare ad imparare fare cominciare a fare qualcosina cominciamo da qui poi ovviamente c'è tutto un mondo che si spalanca dopo cominciamo quindi a fare questo movimento qua vedete prendiamo il filo che corrisponde al filo di lavorazione e all'altro che è appunto la codina molto lunga e li facciamo fare questo movimento con il polso vedete questo movimento qua facendo questo movimento qua di polso si creano diciamo due anelli sostanzialmente vado con il ferro dentro il primo porto davanti il secondo e di nuovo vado a ributtare l'anello ed ecco che ho realizzato il mio primo punto sul ferro adesso ovviamente vi faccio rivedere faccio questo movimento si creano gli anelli vado dentro con il primo anello vado dentro con passo davanti con l'altro filo e porto dentro l'altro anello e di nuovo altro punto di nuovo faccio questo movimento si creano questi anelli vado dentro con il ferro porto davanti l'altro davanti si crea questa sorta di ulteriore anello passo sotto al ferro e tiro ed ecco qua che ho formato gli altri ovviamente avrò bisogno di un tot di diciamo come dire di punti anche qui vedete questo movimento qua di polso vado all'interno di nuovo davanti e di nuovo davanti e tiro di nuovo ovviamente dovrò avere un tot di punti che mi corrisponde alla larghezza della mia vedete vado su e dentro della mia lavorazione se dovete cominciare a lavorare non riempite tutto il ferro perché poi dopo voglio dire vi trovate un po' male dovete imparare sostanzialmente quindi fate qualcosa di semplice di iniziale cominciate con 10 punti con 20 punti non vi impazzite voglio dire nel senso al massimo disfate e rifate se non siete soddisfatti ma non riempite il ferro di punti perché poi voglio dire vi viene un lavoro troppo grosso anche perché considerate che poi se volete fare delle lavorazioni più grandi poi combinate questi questi elementi tra di loro quindi partiamo con una decina di punti ad esempio vedete siamo sul davanti poi di nuovo all'interno e tiriamo di nuovo questo movimento qua vedete prendo il filo in questo modo e gli faccio fare questo movimento qua questo così e poi vado dentro e poi di nuovo e poi di nuovo e tiro e vado diciamo avanti ne faccio un pochino ad esempio io adesso me ne vado a fare ancora qualcuno perché così poi dopo ce n'ho un po' per farvi vedere il primo punto che vi faccio vedere oggi che è appunto di lavorazione anche qui avete i ferri avete il filo prendete facciamo insieme io sto utilizzando dei ferri in legno che sono tra l'altro della filati tre sfere mi sono stati inviati e della lana appunto molto spessa questa è una lana diciamo vera cioè nel senso non è acrilico proprio lana si vede però ripeto vedete perché vi dicevo del discorso della codina no perché effettivamente io andando a fare questo tipo di lavorazione a differenza dell'uncinetto dove alla fine la codina non è interessata perché io comincio subito a lavorare con il filo di lavorazione quindi la codina anche se non è tanto lunga cioè non deve essere lunga perché alla fine vi impicce basta nel caso invece della maglia la codina deve essere abbastanza lunga perché appunto io vado a lavorare vedete con questo movimento qua io vado a lavorare sia con il filo di lavorazione che con la coda vedete cioè sto utilizzando filo di lavorazione e codina quindi ovviamente se io devo realizzare 40 punti ho bisogno di una codina lunga quindi prendo il filo gli faccio fare questo movimento qua vedete questo movimento qua vado dentro a queste specie di anelli che si formano sul dito di nuovo davanti e questo sta diciamo sul pollice lo vado a portare all'interno del filo e tiro ed ecco qua io ho realizzato alcuni punti adesso cominciamo con la cosiddetta maglia al dritto perché chi sa lavorare i farri ovviamente lo sa io mi riferisco però soprattutto in questo momento a chi non ha mai preso i farri pano e distinguiamo maglie al dritto dal maglie a rovescio ovviamente non è che voi siete obbligati diciamo a lavorare sempre un dritto o un rovescio potete lavorare anche tutto al dritto sostanzialmente e avete la cosiddetta maglia legaccio qual è il rischio il rischio è che una volta che avete imparato a realizzare la maglia al dritto continuate a lavorare al dritto perché rispetto alla maglia a rovescio la maglia al dritto sembra più semplice di primo acchito voglio dire quindi si sentono molte persone che dicono ma io lavoro solo al dritto perché trovo difficoltà a lavorare a rovescio effettivamente può essere una difficoltà però ripeto non siete obbligati a fare sempre un dritto al rovescio potete anche fare tutto il lavoro al dritto ad esempio farvi la vostra maglia legaccio e imparare bene la maglia dritta e poi diciamo cominciare a imparare anche a rovescio voglio dire non è che siete obbligati se voi avete fate fatica per dire ad imparare la lavorazione al dritto e sentite che avete bisogno di esercitarvi soltanto con la maglia al dritto perché avete da fare già così e un bel po' fate solo quello e poi magari quando vi sentite sicuri perché avete imparato bene a lavorare al dritto allora cominciate a prendere anche la lavorazione a rovescio fatto sta qui a questo punto si creano delle diciamo si creano due scuole di pensiero cioè quelli che preferiscono i ferri quelli tradizionali lunghi e quelli che preferiscono quelli corti qui ad esempio abbiamo una via di mezzo considerate che nelle misurazioni più grandi sono più difficile che troviate i ferri lunghi anche qui provate provate magari potete prendervi uno di quei set io ce no poi ve lo faccio vedere dove avete un po' di misure insieme quindi potete magari cambiare la misurazione però la lunghezza in quel caso non c'è nel senso che sono ferri corti ovviamente anche lì provate vedete voglio dire anche l'investimento economico è abbastanza basso per cui provate vedete con che cosa vi trovate meglio anche perché ripeto c'è chi dice no no il farro corto perché il farro più lungo è più mi impiccia non riesco a tenerlo sotto il braccio e c'è chi dice no no io assolutamente ho imparato con i fari lunghi e non riesco assolutamente a lavorare con i fari corti ho bisogno di sentire il farro sotto braccio ovviamente ripeto questo è una cosa personale cioè molto dipende anche da come avete imparato perché appunto come vi dicevo già c'è una sorta di imprinting in questo tipo di cose cioè se io ho imparato magari in un certo modo poi faccio fatica a disabituarmi quindi cercate sempre di imparare sulle vie mezzane in modo da non avere diciamo poi questo tipo di difficoltà fatto sta con la maglia al dritto ovviamente cosa devo fare sostanzialmente devo portare quella che è la mia lavorazione su un ferro su un altro ferro quando andrò a lavorare il ferro seguente farò il contrario cioè il mio lavoro passa da un ferro all'altro sia che voi lo lavoriate al dritto che lo lavoriate al rovescio il lavoro passa sempre da un ferro all'altro e il lavoro cresce in questo passaggio cioè passando da un ferro all'altro di conseguenza ovviamente dovete lavorare appunto insieme tendete a tenere il vostro lavoro abbastanza in punta perché poi vuol dire già la manualità non è proprio così intuitiva o comunque per me non lo è stata rispetto ad esempio alla lavorazione ad uncinetto in più se voi tenete tutta la lavorazione verso la fine del ferro voglio dire è ancora peggio quindi tendete a tenere i vostri punti abbastanza vicini alla punta considerate che poi ci sono anche questi attrezzi qua che sono comodissimi che servono per bloccare il vostro lavoro vedete sulla punta li trovate anche di diverse misure quindi per ferri grandi per ferri più piccoli voi andate a posizionarli sulle punte quando ad esempio non lavorate se lavorate con i ferri che hanno la doppia punta in questo caso no perché c'è appunto il tappino li potete usare ovviamente su tutti e due i lati in modo da chiudere le punte e da non rischiare che il lavoro vi esca ovviamente dalla punta quando appunto non utilizzate il vostro lavoro quando non state lavorando ai ferri il fatto sta che il passaggio è sempre quello nella maglia dritta quindi voi prendete l'altro ferro e dovete passare sostanzialmente vedete sotto adesso lo vedete bene perché con la diretta vedete proprio bene il dietro vedete questo è il davanti ovviamente del mio punto del primo punto che è questo qua e questo appunto è il sotto lo vedete benissimo perché in diretta lo vedete bene ecco io quando vado a lavorare al dritto passo qua sotto con l'altro ferro ovviamente quello vuoto a questo punto prendo ovviamente il lato della lavorazione attenzione 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 perché qua già purtroppo è successo il padadrack ma si risolve se la codina che vi ha avanzato dalla vostra lavorazione è eccessivamente lunga è meglio cercare di tagliarla diciamo perché perché vi può ovviamente impicciare esempio qui la mia è molto lunga perché io avevo ipotizzato di lavorare con appunto più maglie invece mi sono resa conto che per farvi vedere mi servono meno maglie quindi che cosa faccio vado a tagliare la codina anche lì come già vi dicevo in altri casi non eccessivamente corta perché magari poi mi può venire utile quando ho finito quindi questo diciamo è un pochino diciamo un punto fisso sostanzialmente quando lavoriamo anche con le maglierie noi ieri abbiamo visto le lavorazioni con le maglierie abbiamo visto che era meglio non tenere diciamo fili troppo corti non tagliare troppo perché il filo comunque ci può servire questo non significa che dobbiamo lasciare chilometri di codine perché se no ripeto rischiamo di lavorare la codina anziché vedete la codina l'ho tagliata ecco la bella corta anziché il nostro filo di lavorazione portiamo quindi i fili in punta andiamo ad inserire il ferro all'interno e andiamo a fare questo movimento qua vedete sul ferro partendo diciamo dal dal basso verso l'alto sempre passando da dietro questo diciamo è un pochino una un come dire un un riferimento sostanzialmente andiamo su e cerchiamo ovviamente di passare il ferro vedete l'altro ferro ovviamente sotto al punto che si viene a creare e abbiamo realizzato la nostra prima maglia appunto dritta allo stesso modo adesso voglio diciamo spostare un attimino per farvi vedere meglio ecco qua andiamo quindi sotto e andiamo appunto a portare il nostro filo di lavorazione sopra vedete si crea quando io scorro con il ferro quell'altro quello sul quale si crea vedete questa sorta di di diciamo di 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 diciamo così che mi permette di far scendere il mio punto allo stesso modo vado giù e poi diciamo vado di nuovo su con il mio vedete quando io scorro con il ferro qui diciamo c'è il filo c'è il punto lo vado a prendere sotto il ferro e lascio andare lascio cadere la maglia di nuovo sotto sopra vado a far scorrere il ferro si crea diciamo questo questo questa scanalatura e vado a far cadere vedete il lavoro lo sto passando da un ferro all'altro sostanzialmente in questo modo quindi vado sotto e poi di nuovo sopra ovviamente vado ad acchiappare questo filo vedete che si crea e vado a far scendere la maglia sopra dentro e vado a far cadere la maglia sotto sopra e di nuovo vado a far cadere la maglia sotto faccio passare vedete questo qui è quello che devo andare per quello che vi dicevo tenetevi in punta perché sennò vi incartate sostanzialmente dentro sopra sono tre diciamo sostanzialmente i movimenti e faccio cadere sotto sopra e vado a prendere questo e lo faccio cadere dal ferro questo ovviamente è un movimento che dobbiamo andare a fare per ogni punto sul nostro ferro in modo che ci ritroveremo alla fine del nostro lavoro con il nostro lavoro spostato da un ferro all'altro ma anche diciamo come dire aumentato nel senso non soltanto spostato perché in questi spostamenti di lavorazione voi andate a far crescere il vostro appunto lavoro io adesso vi ho portato a ferri abbastanza grossi così potete appunto vedere bene la lavorazione sotto di nuovo sopra il movimento è sempre questo sotto ovviamente c'è la diretta per cui qualche diciamo problema tecnico nel farvi vedere bene ovviamente però questo è e vedete c'è vedete cosa va da tirare su io questo qua che si forma durante il passaggio sotto sopra si forma questa specie di scanalatura e la vado ad acchiappare per portarla sotto dentro sopra scanalatura sotto filo sul ferro e di nuovo siamo all'ultimo punto sotto ed ecco qua poso il mio uncinetto il ferro ed ecco qua i miei punticini la mia prima maglia diciamo dritti il mio primo ferro dritto sostanzialmente ed eccolo qua vedete questo era il ferro al dritto se dovete andare invece a fare la lavorazione a rovescio adesso io non so se farvela vedere perché comunque mettiamo tanta carne al fuoco però ovviamente queste cose poi le rifaremo quando voi dovete andare a lavorare alla maglia diciamo rovescia il ferro a rovescio appunto il filo di lavorazione va sopra l'altro ferro quindi voi dovete fare questo movimento molto semplice per far andare il vostro filo sopra il ferro diciamo vuoto sostanzialmente ripeto in modo che il filo sia sopra e questo è importantissimo perché se non fate andare il filo sopra il ferro che dovete andare a lavorare non riuscite a ricreare quel movimento diciamo così con la lana e col polso che vi permette poi di realizzare la vostra maglia sostanzialmente quindi è importante che il ferro diciamo il filo sia sopra invece di passare qua sotto dovete passare qua sopra sopra quindi invece di prenderlo da sotto il punto lo pigliate da sopra una volta che l'avete preso da sopra ovviamente il filo e per questo che è importantissimo che sia sopra il ferro di lavorazione lo dovete appunto far passare in questo modo sopra il vostro vedete si crea sempre la scanalatura ma si crea ma si crea appunto da sotto invece che da sopra ora ve lo faccio rivedere ovviamente lo prendete invece che da sotto lo prendete appunto da sopra prendete il ferro e lo passate ovviamente sempre sopra l'uncinetto e scusate sopra il ferro da maglia vi faccio rivedere e poi ovviamente vedete lo andate a prendere da sotto però ripeto preferisco farvelo vedere domani e farvi vedere invece soltanto la maglia appunto al dritto perché in questo modo non mettiamo troppa troppa carne al fuoco anche con la maglia rovescio però il movimento diciamo è quello invece di stare a lavorare sostanzialmente di prenderlo diciamo da sotto qui lo andiamo a prendere da sopra però ripeto non voglio mettere troppa carne al fuoco perché esagerato e quindi preferisco diciamo farvi oggi avervi fatto vedere il discorso maglia al dritto e domani andiamo avanti con il discorso appunto della maglia a rovescio con appunto questo tipo di fili allora per concludere quindi oggi perché mi sembra che comunque di cose ne abbiamo fatte abbastanza volevo dirvi domani continuiamo e domani abbiamo anche una cosa molto bella non so se la mattina credo la mattina più che il pomeriggio faremo leggeremo in diretta le avventure di Pinocchio di Collodi in questa versione illustrata da Iacovitti come già vi avevo anticipato nei giorni nei giorni precedenti appunto in qualche giorno qualche giorno fa cominciamo la lettura ad alta voce di Pinocchio quindi compariremo in diretta non per farvi vedere cose quindi non nel nostro appunto laboratorio così per parlare di tecniche creative ma per leggere in diretta direttamente le avventure di Pinocchio ovviamente questi video legati appunto a il progetto e comunque le iniziative per io resto a casa li trovate anche li troverete perché li stiamo caricando sul nostro canale youtube e sono indicizzati giorno per giorno quindi oggi ovviamente siamo al giorno 2 perché abbiamo iniziato ieri volevo solamente introdurmi perché appunto ripeto domani ne faremo un discorso a parte quindi sarà proprio una diretta legata a questa con il capitolo 1 c'era una volta un re diranno subito i miei piccoli lettori no ragazzi avete sbagliato c'era una volta un pezzo di legno non era un legno di lusso ma un semplice pezzo da catasta di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze non so come andasse ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname il quale aveva nome Mastro Antonio se non che tutti lo chiamavano Mastro Ciliegia per via della punta del suo naso che era sempre lustre e paonazza come una ciliegia matura appena Mastro Ciliegia ebbe visto col pezzo di legno si rallegrò tutto e dandosi una fregatina alle mani per la contentezza borbottò a mezza voce questo legno è capitato a tempo voglio servirmene per fare una gamba di tavolino detto fatto prese subito l'ascia arrotata per cominciare a elevargli la scorza e a disgrossarlo ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata rimase col braccio sospeso in aria perché sentì una vocina sottile sottile che disse raccomandandosi non mi picchiare tanto forte figuratevi come rimase quel buon vecchio di Mastro Ciliegia girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina e non vide nessuno guardò sotto il banco e nessuno guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno guardò nel corbello dei truccioli della sigatura e nessuno aprì l'uscio di bottiga per dare un'occhiata sulla strada e nessuno e dunque ho capito disse allora ridendo grattandosi la parrucca si vede che quella vocina me la sono figurata io rimettiamoci a lavorare riprese l'ascia in mano tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno oi ma hai fatto male gridò ammaricandosi la solita vocina questa volta Mastro Ciliegia restò di stucco con gli occhi fuori dal capo per la paura con la bocca spalancata e con la lingua giù ciondoloni fino al mento come un mascherone da fontana appena riebbe l'uso della parola cominciò a dir tremando e balbettando dallo spavento ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto oi eppure qui non c'è anima viva che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere a lamentarsi come un bimbo io non lo posso credere questo legno eccolo qui è un pezzo di legno da caminetto come tutti gli altri e a buttarlo fu il fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli o dunque che ci sia dentro qualcuno se c'è nascosto qualcuno taggio tanto peggio per lui ora lo comodo io e così dicendo agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbattacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza poi si misi in ascolto per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse aspetta due minuti e nulla cinque minuti e nulla dieci minuti e nulla ho capito disse allora sforzandosi di ridere arruffandosi la parrucca si vede che quella vocina che ha detto oi me la sono figurata io rimettiamoci al lavoro e perché gli era entrata addosso una gran paura si provò a cantarellare per farsi un po' di coraggio intanto posata da una parte l'ascia prese in mano la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno ma nel mentre che lo piallava in su e in giù sentì la solita vocina che gli disse ridendo smetti tu mi fai pizzicorino al corpo questa volta il povero mastro ciliegio cadde giù come fulminato quando riaprì gli occhi si trovò seduto a terra il suo viso pareva trasfigurato e perfino la punta del naso di paunazza come era quasi sempre gli era diventata turchina dalla gran paura questo era il primo capitolo dell'avventura di Pinocchio domani continueremo la lettura e c'è anche una possibilità vediamo se riusciamo a farlo di realizzare proprio un vero e proprio podcast che troverete disponibile su determinate piattaforme con la lettura ad alta voce dell'avventura di Pinocchio a questo punto mi do appuntamento a domani mi raccomando grazie di essere stati con noi fateci sapere commentate se siamo riusciti diciamo a fare qualche cosa di utile perché l'obiettivo è questo qui e vi do appuntamento a domani sempre in diretta ciao